No Limits Sea Emotions è il nome del progetto internazionale Erasmus Plus che conferisce brevetti per istruttori e guide diversamente abili specializzati non vedenti grazie all'associazione Albatros Progetto Paolo Pinto. L'iniziativa è stata presentata nell'Aula Consiliare del Palazzo del Consiglio regionale della Puglia ed è nata dalla collaborazione tra Cinzia Marzo, europrogettista, e Angela Costantino Pinto, presidente di ASBI, Albatros Progetto Paolo Pinto Scuba Blind International. Dal 9 al 14 ottobre a Bari, Egnazia e Santa Caterina di Nardone, il Salento, gli istruttori, i divemaster e le associazioni provenienti da Spagna, Grecia, Malta e Turchia hanno condiviso un'esperienza unica dal punto di vista professionale ma soprattutto umano. È stato vinto un progetto Erasmus dalla nostra associazione insieme ad altre associazioni di Malta, Grecia, Turchia e Spagna. A loro volta hanno fatto partecipare a questo corso degli istruttori subacui che in questi giorni si sono veramente impegnati per imparare e da domani voleranno nelle loro nazioni per poter svolgere questa attività con i loro non vedenti. Fare subacquea con il metodo che poi ha sviluppato l'associazione Albatros Progetto Paolo Pinto significa scendere insieme ad un altro ma nella piena libertà nelle profondità del mare. Io come garante dei diritti delle persone con disabilità non posso che essere felice di questa iniziativa e soprattutto che sia esteso questo metodo Made in Italy, anzi Made in Puglia poi a tutte le altre nazioni anche fuori dalla Puglia. E poi devo dire che sono ulteriormente contento perché io sono uno dei precursori insieme ad altri ragazzi tra cui Elisabetta Franco e altri ancora rispetto a dei corsi di subacquea insieme ad Albatros. Quindi in prima persona ho provato che significa stare sotto il mare, godere della bellezza, della solitudine e della libertà che deve al mare e delle scoperte che ti fa fare tale miria di cose che ci sono sott'acqua.